Quello che ci manca ancora è l'operazione di interpolare ai dati originari una distribuzione di probabilità. In particolare vedremo che andremo ad interpolare una distribuzione che chiamo distribuzione di Gumbel. Ritorniamo dunque un passo indietro rispetto a prima. Il nostro tempo di ritorno è uguale ad m che è l'intervallo di campionamento diviso la probabilità di superamento oppure ad m diviso 1 meno la probabilità di non superamento che è la probabilità vera e propria. Che tipo di probabilità, che tipo di modello probabilistico andiamo ad interpolare a questi dati? Usiamo questa curva dei valori estremi di tipo 1, curva di Gumbel. Questa curva dei valori estremi è una curva doppio esponanziale e elevato alla meno e il quale a sua volta è elevato alla meno H meno A diviso B dove H è l'altezza di precipitazione che come ho scritto in grande può in teoria variare da meno infinito a più infinito. A e B invece sono due parametri per cui la nostra probabilità così espressa non è semplicemente una curva di probabilità, una distribuzione di probabilità ma è un insieme di curve dipendente dai due parametri A e B che andremo a capire che cosa sono. In particolare A è un parametro che è di posizione della curva ed è legato alla moda cioè al punto in cui la curva ha un massimo. Questa è una curva unimodale mentre B è un parametro di forma cioè ci dice quanto larga più o meno è la curva ed è legato quindi alla deviazione standard che è un concetto che voi dovreste conoscere. Perché questa curva con questa forma così strana? Beh perché negli studi che sono stati fatti sugli estremi in cui per esempio seguendo il metodo che vi ho illustrato prima vengono estratte delle altezze di precipitazione estrema da una serie di dati che invece è idealmente continua, si è rivelato che le curve dei valori estremi possono avere tre forme specifiche che poi è più un'altra, diciamo tre forme specifiche se sono rispettate alcune condizioni sulla forma delle code asintotiche di queste curve come vanno a meno infinito o più infinito. E una di queste tre curve poi vedremo anche le altre due più in là è la curva di Gumbel che è quella che classicamente viene usata per l'interpretazione delle precipitazioni. Una curva di Gumbel è fatta in questo modo quindi come vedete qui i parametri mu e beta sono messi in modo diverso da quelli che vedevamo prima però come vedete una curva una tipica curva di probabilità unimodale forse dice qualcosa di più guardando il guardando la distribuzione di probabilità cioè questa curva che vedete in una volta integrata vi dà la probabilità. Questa è la probabilità questa è la densità di probabilità. La probabilità va fra 0 e 1 la densità di probabilità, l'integrale delle curve di densità di probabilità sono tutti uguali e uguali ad 1. Che cosa ci interessa in generale di una curva di distribuzione di probabilità? Beh ci interessa intanto se è unimodale o se è multimodale perché ci possono essere delle curve anche multimodali. In questo caso abbiamo a che fare con una curva unimodale. Una cosa interessante è che la media o il valore, meglio il valore atteso della distribuzione è noto, è noto come funziona dei parametri. In particolare il valore atteso della variabile che qui ho chiamato x ma in precedenza era h ma nulla cambia, è b gamma più a. Dove a e b sono i due parametri che entravano qui in questa formula. E gamma è un numero particolare che è un numero irrazionale che si chiama costante di Eulero-Mascheroni di cui io lì ho scritto le prime n cifre, non so neanche quanti siano. Comunque 0.5772. Beh perché è questa forma strana? È questa forma strana perché per calcolare il valore atteso sulla curva bisogna fare degli integrali che in questo caso sono degli integrali trascendenti, i metodi sono metodi di integrazione un po' particolari e possono apportare alla produzione di questi numeri irrazionali. La moda è A, la mediana è A-b logaritmo di logaritmo di 2 e la varianza è b quadro pi greco al quadrato sesti. Di nuovo qui compare un altro numero irrazionale anche se a voi è naturalmente più noto che è il pi greco al quadrato, che ha appunto a che fare con il fatto che si tratta di funzioni trascendenti e delle regole di integrazione che vengono usate. Per integrare, fare questo tipo di integrali, normalmente bisogna usare dei trucchi, delle estensioni e si trovano comunque questi integrali si trovano in libri che si chiamano tavole degli integrali. Oppure moderni software come Matematica, come Maple, sono in grado di darvi queste risposte attraverso degli algoritmi di calcolo simbolico che ottengono il risultato dovuto. Sì, in generale c'è una forma standard della curva di Goomberg che è quella di E alla meno E alla meno Y e le tavole degli integrali eventualmente danno sia il valore atteso che la varianza è come funziona in questi tavoli di integrali e allora appunto il valore atteso in questo caso di Y, non di H come prima, è gamma, il numero di Olero e Mascheroni, mentre la deviazione standard è pi greco quadro sesti. Come avevamo detto in precedenza, quindi dobbiamo usare i nostri dati che apparivano nella tabella che avevamo visto all'inizio e da questa tabella dobbiamo produrre ciascuna di queste curve, quindi dobbiamo fare almeno 5 operazioni di interpolazione. Una volta che abbiamo fatto le operazioni di interpolazione, come ho detto nell'ora precedente, siamo in grado, assegnato il tempo di ritorno, quindi il valore dell'ordinata che in questo caso è 0,9 per il tempo di ritorno di 10 anni, trovare i valori da H1 ad H24, che poi ci servono per interpolare le curve. La probabilità è una curva invertibile, cioè una funzione monotona del suo argomento, in particolare di H. Quindi in questo caso definisco Q il quantile, che è esattamente il valore della probabilità, e questo è uguale ad E per meno E alla meno H meno A diviso B. Ne faccio il logaritmo una prima volta. Il logaritmo semplicemente si cancella con l'esponenziale, rimane il primo esponente E, anzi con il segno meno, meno E alla meno H meno A diviso B. Cambio di segno nella terza equazione, ottengo meno H meno A diviso B. E alla fine ottengo che H è uguale ad A meno B logaritmo di meno logaritmo di Q. Se Q è 0,9, per esempio, come nel caso precedente, quindi il tempo di ritorno, se Q è 0,9 il tempo di ritorno è 10 anni, perché vi ricordo che Q è uguale a 1 meno 1 su T con R, quindi 1 su T con R, 1 diviso 10 è 0,1, 1 meno 0,1 è 0,9. Se Q è 0,9 abbiamo che H è circa uguale ad A più 2 volte 25 per B. Quindi il calcolo di H è presto fatto. Questo spiega come invertire queste curve. Queste curve sono ovviamente invertibili per la loro forma, sono una rappresentazione 1 a 1 delle ascisse sulle ordinate, e quindi sono invertibili e questa rappresenta l'operazione di inversione. Noi entriamo con il valore di Q, usciamo con il valore di H. E qui abbiamo fatto tutte le nostre operazioni con le curve di Gumbel.